In realtà è molisana non trascurabile per la sua struttura e per la sua capacità anche turistica. È un paese tutto sommato medio rispetto alle dimensioni dei paesi in Molise. Amorevole Micicchè a Campomarino, si parla di fondi FAS, quando è che i comuni potranno averli a disposizione? Noi aspettiamo soltanto che ci arrivino dei progetti. Appena arrivano questi progetti, che siano progetti esecutivi, cioè immediatamente cantierabili, siamo pronti subito per dare i finanziamenti. Sono venuto a spiegare questo meccanismo nuovo di lavoro anche qui a Campomarino, lo sto facendo in tutti i comuni del sud, in Molise in particolare. Siamo vicini alle regionali, si parla di un passaggio di Chieffo con Grande Sud. Quanto c'è di vero? Come si dice, in questi casi non si dice mai la verità. Io mi sono abituato a dirle e quindi gli dico che è già un'operazione fisica. Quindi è già fatta? Sì, è già con noi Chieffo. E a Campomarino avrete un vostro candidato? Ora vediamo, dipende dalla serata come va. Ma io spero di sì. E comunque stiamo cercando di fare delle liste che siano liste di territorio, quindi che in qualche maniera possano essere, possano rappresentare tutto il territorio della provincia di Campobasso, così come tutto il territorio della provincia di Servi.